La cittadella del bambino mette i suoi spazi a disposizione dei più piccoli. Sono iniziati infatti i campi estivi che terranno i bambini impegnati durante i tre mesi che ci separano dall'inizio del nuovo anno scolastico. Tante attività diverse tra loro che per i ragazzi rappresentano anche un tocca sana dopo il periodo di sedentarietà causato dal lockdown. Con questo campo le finalità sono sempre quelle che perseguiamo da più tempo con la nostra cooperativa associazione. C'è uno sfondo educativo, lo dico ricreativo, per quanto concerne i bambini dall'età dei tre, anche meno a volte, fino ai 17 anni più o meno. Ogni settimana c'è un programma che i ragazzi seguono, siamo in collaborazione con il Bella Vista quest'anno, proprio perché dopo il periodo Covid i bambini non hanno avuto la possibilità di poter fare attività sportiva. Quindi ci alterniamo. Prima mattinata c'è l'accoglienza eccetera e ogni giorno della settimana ci sono dei laboratori, quali orto, laboratori di archeologia con Arche Esplora, arte, impasto e giochi d'acqua e la libertà di questo campo meraviglioso.